Francesca Di Cerpo e sicuramente anche di una combattiva Lucrezia Sartori, Veronica Dialetto intanto molto brava ad arrivare fino a 12.51, attenzione a questo salto che la fa un po' arrabbiare, vediamo un po' cosa uscirà dal referto dei giudici. Non dovrebbe bastare a scalzare al 12.92 di Sartori, vediamo nei confronti del 12.72 di Di Cerpo, ma penso sia qualcosa meno.